Amici di Parferme, un ordiale saluto da Beppe Dammà Oggi in compagnia di Enzo Bortoleto andiamo a scoprire quelli che sono i segreti di un team di StoAr Siamo infatti nella sede del team ATF Sports e ora attualmente nella StoAr Prosilies Andiamo Questo stanzone molto grande di quello che ricordiamo essere uno dei team più giovani ma più innovativi della StoAr Prosilies E' l'officina, il luogo in cui la magia avviene, qui tutte le vetture vengono preparate e riparate e messe a punto per la preparazione di ARA Non finisce qui, veniamo in tutti i segreti, venite o noi Non finisce qui, venite o noi Saliamo le sale ed entriamo nell'area amministrativa, quella dell'ufficio e delle sale riunioni Dove infatti potremo trovare degli ingegneri insieme al personale, all'amministrazione del team A studiare, a preparare insieme Quella sarà poi la strategia per affrontare la gara Sia dal punto di vista dell'assetto, del setup, quindi nel senso stretto della vettura Ma dal punto di vista mentale dell'intero team Saliamo ora un piano ed entriamo in quella e l'area dedicata alla preparazione fisica e mentale dei piloti Vediamo infatti che alcuni dei nostri piloti, dei piloti del team ATF Sports Si allenano in palestra, migliorano la forma fisica e tonifiano i muscoli Qualcuno invece ha appena finito di allenarsi e quindi preferisce riposarsi Magari gioando alle macchine su questa enorme pista e si trova al centro della lounge Qualcuno invece ne può approfittare, può bere qualcosa in questo lunghissimo bantone del bar Approfittando anche per riposarsi un attimo Qualcuno invece è il turno al simulatore Un innovativo simulatore è il fiore all'occhiello del team ATF Sports E senza ombra di dubbio è uno dei più all'avanguardia all'interno dell'intera riglia di partenza della Star Pro Series Ed è proprio in questa sede dove avviene la magia Dove i piloti riescono a trarre il massimo beneficio fisico e mentale Per una preparazione ottimale in vista delle aree Andiamo quindi negli uffici amministrativi all'ultimo piano Dovenzo Bortoleto ci saluta e ci ringrazia per essere stati in compagnia del team ATF Sports Di cui lui è Sio e insieme a Parc Fermè Per aver seguito questo breve filmato sui retroscena di un team della Star Pro Series Grazie per essere stati con noi Grazie da Beppe Dammà o da ATF Sports Appuntamento alla prossima Un ordiale saluto Restate sintonizzati su Parc Fermè Valeu!